E' tornato ad animare con messaggio il tradizionale brusa la veccia, falò, rito propizzatorio e assieme momento di comunità. L'ultima volta era stata nel 2020, prima della pandemia, poi per evidenti motivi sanitari non si era più tenuto un evento di questo genere, figlio della tradizione popolare, che mira a festeggiare il nuovo anno con un fuoco propizio che dice addio all'anno passato. Nel 2020 e negli anni precedenti il brusa la veccia era stato organizzato sull'acqua del canale Navarolo con una speciale zattera, creando un suggestivo gioco di specchi. Quest'anno non è stato possibile, ma la partecipazione è stata comunque importante, con tanti cittadini commessagesi e altri che sono invece arrivati dai comuni limitrofi. A organizzare il tutto la locale sezione dell'Avis, che per il giorno dell'Epifania ha voluto rimarcare come in questo inizio 2023 il fatto di bruciare la vecchia sia stato anche un modo per cancellare in effetti gli ultimi due anni di grande paura, legati soprattutto al Covid e da febbraio 2022 anche alla guerra tuttora in corso in Ucraina. Ceci Caldi e Vimbrulè, simpatiche e befane per ricordare la parte più profana dell'Epifania e il falò propiziatorio, appunto, hanno dunque fatto da corollario a un tardo pomeriggio di comunità che ha portato accanto al fuoco centinaia di persone proprio come era accaduto negli anni passati, quasi a voler dire che il tempo, almeno a commessaggio, si è fermato e le belle tradizioni, per fortuna, non se ne sono andate con il Covid.